Perchè questa? Ma che palordi! Non è giusta! E' quell'altra che bisogna fare! Ma hai detto che ci sono le Vespe! Le Vespe! Vai giù di là! Vai giù di là! Vai giù di là! Vai di lì! Vai di lì! Vai di lì! Vai di là! Ancheinformatiche... Tutte merda! Ha! com'è quella discesa qua? com'è quella discesa qua? era meglio quella di lava ma c'è strizzata e questa è cattiva è arrivato prima della pianta fuori le gambe tutte allora? vai 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 che ti fai? perché? a zero a zero ho trovato il mio serpente appena scappato è andato come un missile è andato come un missile piccolino lungo così guarda di là è bella ma bisogna pulirla io ho trovato anche il serpente guarda guarda qui è diverso chi è? chi è? è una miseria nuova Grazie.